Cari amici utenti dell'impiosto fresco, clima natalizio, vi facciamo vedere in anteprima mondiale il caro regalo che ci ha fatto la titolare del negozio ebolario di Novi Ligure, questo pratico calendario tubolare a corona, molto molto bello, con questi bei fiori. E non finisce qui, perché oltre alle numerose copie del calendario che allietano proprio la redazione, c'è anche questa bellissima agendina che vi facciamo vedere, con tutte le piante officinali e qui il nostro, peccato che non c'è, il nostro Marco Fossati saprebbe dirvi tutte le proprietà di queste piante nutritive e quanto altro, quindi davvero un bel regalo, la ringraziamo di cuore. Bene, grazie, un grazie all'inchiostro.